Le vittime da coronavirus continuano a crescere in tutta Europa, secondo una stima sarebbero già 30.000, ma in molti paesi si pensa ad una futura, graduale uscita dall'emergenza. In Italia, oltre 110.000 casi positivi e più di 13.000 morti, il Premier Giuseppe Conte ammette di non poter fare previsioni. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, nel momento in cui il Consiglio degli esperti ce lo permetterà, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile, non siamo nella condizione. In Spagna, dove si contano 9.387 morti e oltre 104.000 contaminati, un team veterinario dell'Università di Madrid lavora allo sviluppo di un test per il Covid-19. Nonostante il record di decessi di ieri e di due giorni fa, la curva dei nuovi contagi pare abbassarsi, il che induce le autorità a ribadire l'utilità del blocco. In Francia, il numero delle vittime cresce ogni giorno. Ieri sono morti 509 pazienti e la crisi dei posti letto in alcune regioni resta grave. Il primo ministro, Eduard Philippe, parla dell'uscita dal blocco con molta cautela. Abbiamo creato diversi gruppi di lavoro sul tema delle misure di blocco per arrivare a definire una strategia appropriata, verificare la fattibilità di un ritorno graduale, regione per regione, o quella di una sperimentazione che potrà basarsi, chissà, sulle fasce d'età. In Gran Bretagna, dove si registra il record di oltre 500 morti in 24 ore, l'aviazione ha allestito velivoli sanitari attrezzati per il trasporto di pazienti e il Servizio Sanitario Nazionale ha aperto un centro diagnostico in una struttura montata nel parcheggio di un centro commerciale. Qui nella giornata di lunedì sono stati eseguiti 8.630 test. Nel paese sono stati effettuati in totale 152.000 test, da cui sono risultati quasi 30.000 casi positivi.